Con Paola Inar andiamo nel dettaglio e andiamo a vedere la mostra dedicata a Pietro Porcinai nel trentennale della sua morte. Che mostra hai e perché venire a vederla? È una mostra che indaga la figura di Pietro Porcinai, il più grande paesaggista italiano di tutto il Novecento, non solo dal punto di vista dei suoi lavori, ma anche Pietro Porcinai come uomo, quindi il suo pensiero e come il suo pensiero ha cambiato un po' le regole di approcciarsi alla natura, quindi grande rispetto per il nostro mondo, grande rispetto che l'uomo deve avere quando si approccia a lavorare accanto alla natura. Un grande messaggio molto contemporaneo, molto attuale, che ci tenevamo a portare all'attenzione dei nostri visitatori. Il castello in effetti vive in mezzo alla natura e della natura quasi sembra nascere, questo è un po' il vostro punto di riferimento principale? Sì, assolutamente, il castello di Miradolo è immerso in un parco di oltre sei ettari con tantissimi alberi storici, maestosi, molto vecchi e è un perfetto connubio la mostra con quello che il parco fuori ci offre. La mostra, visto il grande successo, verrà prorogata fino al 27 di novembre e quindi questa sarà una meravigliosa occasione per visitarla e passeggiare lungo il parco durante l'autunno e vedere i colori meravigliosi della natura. Alla scoperta del Pinerolese non si può non passare dal castello di Miradolo dove è stata compiuta e tuttora in corso un'opera di ristrutturazione e di apertura al pubblico che ha dato molti risultati. Con il Presidente della Fondazione Cosso vediamo però un aspetto particolare, quello dell'educazione dei giovani su cui voi molto puntate e su cui voi avete utilizzato la bellezza come chiave di apertura della porta delle loro menti. Sì, in effetti il nostro desiderio è quello di raggiungere il maggior numero possibile di giovani per far conoscere loro la bellezza del posto, la bellezza della natura, il valore del bello che ognuno di noi ha e che deve scoprire in sé stesso. E quindi lavoriamo su questo progetto con delle mostre, con dei concerti, con dei laboratori aperti a tutte le scuole dall'infanzia fino alle primarie alle secondarie superiori e ci auguriamo che i giovani siano sempre più presenti con noi. L'ultimo concerto che abbiamo avuto che era di Reich, un musicista della seconda metà del Novecento ha avuto un grande successo tra i giovani, una musica molto moderna che ha fatto proprio da cassa di risonanza per cui mentre negli altri concerti più tradizionali la presenza dei giovani c'era ma non così numerosa e in questo caso è stato veramente grande. Si può fare un bilancio dopo otto anni? Direi positivo, io sono ottimista e di conseguenza vedo sempre lontano ma vedo lontano in modo positivo. Siamo partite in punta dei piedi senza nessuna esperienza nel settore con una morte su delle anni che aveva passato una parte del suo tempo qui come insegnante di pittura della Contessa Sofia, proprietaria del castello poi siamo andati avanti con molto di diverso tipo e abbiamo scoperto che in ogni modo la ricerca è importantissima.